E' qui che tutto ha inizio. Se immaginare una nuova poltrona o un nuovo divano è già una sfida, in un certo qual modo è solo la prima tappa di un lungo percorso. Un percorso guidato da un certo approccio del design e da una serie di principi. I nostri designers travel all over the world to all the different furniture fairs to look what is going on, what is the furniture business really doing. Then when they come back they know what not to do, but then they also get inspired on what we can do to make the stress less more trendy and make new designs that make this evolution of stress less a little bit more updated. So a new design will always be an inspiration of what we have seen globally, but it will always be unique and stand out from the rest. And it will have all the stressless features, functions and comfort. Con decine di anni trascorsi a studiare il corpo umano per gestire il comfort assoluto, ciò che immaginiamo non è soltanto un prodotto, è un'esperienza. All the stressless recliners have the lumbar support, the headrest, the sleep function. Because this is what stressless comfort is about. It starts from inside. Then we have molded foam, firm molded foam with comfort zones. And just to explain how comfort zones works, you can look at this. You see these different holes in foam, that makes you sink deeper into the chair and it makes the foam softer. So when we have added the comfort zones to make you sink deeper into the chair and it curves more around you, that takes the comfort to a new level. We actually have a patent planning. This is one feature that makes the stressless unique. Al centro di questa esperienza vi è un'ingegneria incomparabile, una fabbricazione impeccabile, materiali incredibili, che prendono forma in molteplici modi. Da un disegno su uno schermo, alla modellizzazione in 3D e i prototipi, una nuova linea prende vita. Poi, forse, alcuni di questi modelli saranno scelti per essere mandati in produzione. Da questo primo schizzo o da questa prima idea, fino alla comparsa di una nuova poltrona in negozio, si svolge un processo che può richiedere anni. Quando ti accorgi del nuovissimo look di un prodotto, ricordati che un designer l'ha immaginato anni prima e che questo stesso designer sta già lavorando su una nuova idea in questo stesso momento. È l'inizio di un altro processo, da cui forse nascerà una nuova poltrona o un nuovo divano, destinato a diventare il posto in cui avrai più voglia di stare. A casa tua.